Oggi giorno non si può stare sicuri nemmeno in casa. Il telefono squilla con le continue chiamate da parte di compagnie telefoniche o di energia elettrica a gas che propongono tariffe sensazionali. Oppure basta navigare su internet per fare degli acquisti che si rischia di incombere in delle vere e proprie truffe. Come se non bastasse a volte il cittadino deve scontrarsi con un sistema sanitario nazionale che nonostante il covid non è ancora pronto a fornire le prestazioni e gli esami clinici necessari senza lunghe attese, come se la salute non fosse un bene primario per cui è sempre più importante la tempestività di intervento. Per aiutare il cittadino a districarsi, né tutto questo, nelle Marche sono sorti da alcuni anni gli sportelli antitruffa che forniscono tutta l'assistenza necessaria per venire fuori da situazioni che creano anche preoccupazione e malessere. A Chiaravalle, ad esempio, nei via della circonvallazione, sotto gli archi della stazione ferroviaria, si trova lo sportello di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per molti utenti soprattutto per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Infatti si occupa nel particolar modo del Tribunale del Malato, garantendo al cittadino l'assistenza necessaria a far valere il diritto alla salute senza doverlo fare a pagamento o rivolgendosi al privato, anche perché non tutti hanno la possibilità economica di farlo. Per quanto riguarda il Tribunale del Diritto del Malato abbiamo questo sportello che aiuta le persone nel momento del bisogno, soprattutto per quanto riguarda le liste d'attesa e per quanto riguarda anche i problemi operatori e così via. Siamo coadiuvati da avvocati, anche da un medico legale, perché nel momento in cui tu devi contestare un'operazione fatta male o un qualcosa non andata per il verso giusto, c'è bisogno di una sostanziale e valida argomentazione per poter contestare quello che è avvenuto. Quindi in pratica tante volte capita che si prenota una visita e magari venga fra tre anni, venga fra quattro anni e sappiamo che quando uno è malato bisogna intervenire subito, quindi la tempestività è fondamentale. Non tutti possono permettersi di andare dal privato o andare a pagamento. Voi in questo caso se ci sono i presupposti potete dare una mano importante. Sì, cerchiamo di aiutare le persone nelle prenotazioni, anche perché purtroppo, anche se in regione dicono che le liste d'attesa stanno diminuendo, sono più celeri nel far fare queste liste agli utenti, purtroppo non è così, perché abbiamo tante di quelle segnalazioni che vanno oltre il tempo dovuto, ma persino per le liste urgenti dove viene sbarrata la casella urgente, vanno a 5, 6, 7 mesi per non dire al di là di un anno. Questo è molto grave perché molti pensionati si rivolgono a noi perché non potendo pagare devono aspettare tutto questo tempo per poter fare una visita. Oppure sono costretti ad andare nelle parti vicine. Un pensionato di 70 anni che deve andare ad Ascoli Piceno, che ha un problema alla gamba, non può camminare, non ha nessuno che l'accompagna, io non so come potrebbe fare qualcosa del genere. Purtroppo sono cose che quotidianamente succedono e noi cerchiamo di dare una mano e di aiutarli nel poter ricevere la prestazione dovuta. Quindi il malato che si trova nelle vicinanze, Chiaravalle è punto di riferimento soprattutto per la zona di Ancona, siete presenti un po' in tutta la regione per quanto riguarda la cittadinanza attiva. Viene qui e poi dopo lei o altri suoi colleghi lo seguono in tutti gli aspetti per quanto riguarda il caso specifico. Sì, questo sì. È da tenere presente che il Tribunale del Rittermalato di Iesi fa capo anche a Chiaravalle. Quindi abbiamo per quanto riguarda questa sede un'ampia zona da dover coprire, come poi anche tutte le altre sedi che sono nella regione Marche e che cercano di fare il meglio. Purtroppo molte volte abbiamo le mani legate, non possiamo fare più di tanto, però ci facciamo sentire in vari modi, telefonando, protestando e tutto il resto. Speriamo che qualcosa cambi. Sembra che ci siano dei presupposti che vogliono fare un qualcosa, però se io non vedo non ci credo. Non solo aiuto per i malati ma anche assistenza, proprio sportello antitruffa, per coloro che magari oggigiorno con il fatto che si naviga sui social e su internet e si ricevono tantissime telefonate, si può incappare in qualche contratto di telefonia oppure contratto di energia elettrica o gas che non sono molto chiari e quindi sono una sorta quasi di truffa o comunque magari non erano richiesti dal singolo cliente. Voi li aiutate anche in questo? Sì, abbiamo i conciliatori per quanto riguarda il servizio energetico, per le poste, la conciliazione anche con le poste, con la telefonia e diciamo che molti vengono da noi dicendo mi hanno telefonato e hanno detto mi dia i suoi dati perché qua risulta che qualcosa non va con il contatore, risulta... noi diciamo sempre non date niente, non date ascolto, chiudete direttamente la telefonata senza stare a dare le vostre generalità, date di nascita, codici fiscali e tutto il resto perché sono direttamente truffe, non c'è altro che uno possa fare. Quindi il consiglio diciamo quando ti chiamano dalle varie compagnie anche quelle più rinomate è casomai richiamarle noi attraverso il numero verde e quindi in quel caso con un operatore ufficiale delle varie compagnie telefoniche o dei vari gruppi fornitori di energia elettrica e gas stipulare o vedere se ci sono delle possibilità a livello contrattuale interessanti. Esatto, noi consigliamo di andare direttamente anche agli sportelli perché telefonicamente può essere chiunque ad aver telefonato. Se poi si accertano che non sono stati quelli della compagnia, allora entra in gioco il nostro conciliatore che in pratica cerca di annullare quello che è stato fatto anche se per legge non è valido e poi si interessa anche il garante perché è importantissimo in quanto il garante poi provvede a dare le sanzioni a questi truffatori. Qui a Chiaravale possiamo concludere dicendo che possono ricevere i cittadini un servizio completo anche perché lei è un ex finanziere, è abituato quindi a scovare quello che non va e ad aiutare che ha bisogno di aiuto, ha bisogno di essere accompagnato. I più anziani ma talvolta anche i più giovani incappano proprio per l'inesperienza in certe situazioni non propriamente chiare. Sì, non c'è un'età specifica per essere truffati. Oltre a questo per esempio ci è capitato anche delle persone che hanno avuto dei contratti fatti con dei pseudo concessionari e la macchina non si è vista e non si è visto banco più il concessionario. Quindi bisogna stare molto molto attenti e rivolgersi sempre ai canali ufficiali, sempre, sempre, sempre. E se si è nel dubbio domandare e chiedere, informarsi prima di accettare qualsiasi cosa. Cittadinanza Attiva è stata fondata 44 anni fa da Giovanni Moro, figlio del compianto presidente della democrazia cristiana, per rendere il cittadino consapevole e attivo nei suoi diritti. Nel 2000 l'associazione è entrata nel Comitato Regionale Consumatori Utenti. Lo sportello di Chiaravalle è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, mentre le martedì e giovedì dalle 9 alle 13. Grazie per la visione!